ciao ragazzi buon pomeriggio dal destination blog viaggi del milione rieccoci qui per una comunicazione importante una novità per il 2017 di cosa si tratta ragazzi non è solo paesaggio e non è solo persone non è solo divertimento ma è anche fitness chiedere dei fitness viaggi che sarà mai bene cari amici ascoltatemi crociera del fitness sulla msc poesia partenza 27 maggio da venezia faremo grecia albania e croazia precisamente venezia bari catacolon mykonos pireus sarande dubrovenic e poi rientro a venezia sette notti e otto giorni un'idea interessante alla quale io tengo tantissimo anche perché posso tranquillamente affermare che forse è la prima crociera del fitness che parte da menti meridionali ovviamente dalla cooperazione fra il destination blog viaggi del milione la miriam tour e il centro fitness e p sport allora mi raccomando ragazzi fate gruppo partecipate e venite insieme a noi per avere informazioni sui costi e altri dettagli della crociera potete tranquillamente scrivermi via mail su viaggi del milione chiocciolagmail.com potete tenervi aggiornati seguendoci sulle nostre pagine social e seguendo il nostro sito www.viagidelmilione.com io vi aspetto ragazzi sarà un grandissimo momento di condivisione di divertimento e arrivate a questo punto anche di salute e benessere quindi partecipate e scrivetevi e un abbraccio un bacio a tutti voi ciao ciao